Le politiche del lavoro e l'attenzione della Quarta Commissione. L'organismo consigliare ha udito il Presidente del Comitato di Coordinamento Istituzionale per le Politiche del Lavoro, presieduto da Giuseppe Maggio, e insediatosi nel marzo 2011. Con dati alla mano, Maggio ha illustrato le attività svolte e la programmazione per il futuro, ponendo l'accento su alcune criticità, quali la difficoltà di riuscire a conciliare la funzione di coordinamento del Comitato e le competenze che spettano agli enti che fanno parte del sistema regionale pubblico dei servizi per il lavoro. Difficoltà sono state evidenziate anche in merito alla diversificazione delle politiche di intervento messe in atto da regione, province e comuni. Da qui la necessità, ha fatto notare Maggio da parte del Comitato, di realizzare un programma che comprende tre aree, una ricognitiva, una con connotate organizzative ed operativi e l'ultima con finalità propositive. Si è delineata anche l'esigenza di presentare al Consiglio regionale con cadenza annuale un rapporto sulla funzionalità complessiva del sistema regionale dei servizi per l'impiego e di riconoscere al Comitato un ruolo nell'approvazione dei programmi di inclusione sociale e lavorativa usufruendo dei dati presenti nel sistema lavoro regionale BASIL.